Dalla casa bianconera, Juventus Sampdoria dirige l'orchestra, il maestro Andrea Pirlo, le scelte sono fatte, non si torna indietro. Il silenzio, partiti fino alla fine del primo tempo, forza Juventus in gol dai ragazzi, il primo lancio è di Collei per la Sampdoria. McKennie dalla lunga, in orizzontale per Danilo che guarda la porta, c'entra il destro con il pallone che Sibila di poco alto. 5.45 sul cronometro, prima chance bianconera con il destro violento di Danilo dalla distanza. Non riesce a governare il pallone Ronaldo, poi Ramsey è lesto a ripucurarlo e lanciare proprio Ronaldo, tu per tu con Audero, Cristiano, Cristiano a sinistra, il tiro di Cristiano! Chiude la porta Audero e mette in calcio d'angolo. Grande opportunità per la Juventus al minuto numero 10, 30 secondi, assist di Ramsey per Cristiano che se la porta sul mancino, poi c'entra il tuffo di Audero che mette in calcio d'angolo. Qua da lato, Rabiot, detta il passaggio Ramsey nel vertice dell'area, poi Cristiano la mette giù al volo, limite ancora Cristiano, prova lo sfondamento, Kuluzeschi con il mancino! GOOOOOOOL! La Juve in gol Dejan Kuluzeschi! Un esordio migliore, non poteva immaginarlo con la maglia della Juventus in Serie A, con il numero 44, porta in vantaggio la Juventus Dejan Kuluzeschi! Parte bene la Juventus di Andrea Pirlo e si porta in vantaggio Dani della Sampdoria, con un tiro secco col mancino a girare largo da parte di Kuluzeschi, che prende il remalzo sull'azione in percussione di Cristiano Ronaldo. Bonucci! Quadrado al volo, bene, scambio 1-2 con Ramsey, Quadrado dentro l'area di rigore, tira addirittura in porta, invece che crossare, si è messo in testa un'idea meravigliosa, un po' quello che era successo in un match di Champions League a Lione. Un suo gol fantastico da quella posizione. Ancora il norvegese Tosby, attaccato da Ramsey, poi riconquista McKennie il pallone, Ronaldo di tacco, attenzione al contropiede della Juventus, 3 contro 3, Ramsey bene per Ronaldo, d'altra parte ci sono Quadrado e Kuluzeschi, entra in area Ronaldo, ce l'ha sul sinistro! Traversa clamorosa di Ronaldo ad Audero battuto, 23-30 sul tabellone. Altra chance per Cristiano, gli applausi di Mr. Pirlo. Fra botte vuole metterla in mezzo, serve bene Ramsey, attenzione in area di rigore, deviazione per il volo Ronaldo, la palla fuori di pochissimo. Altra opportunità per Cristiano, minuto numero 34. Ronaldo, atterrato, si prosegue per il vantaggio, Quadrado, sarà giusta per il cross, attenzione, la finta di Juan, il servizio per il tacco ancora di Ronaldo. Kuluzeschi per McKennie, McKennie finge la conclusione con il sinistro, la può effettuare adesso, eccola, il pallone alto sopra la traversa, ci prova dalla distanza anche Weston McKennie, applausi per lui. Juve alla conclusione con lo statunitense ex Schalke 04, Weston McKennie, palla alta sulla traversa di Audero. Poi Danilo, la finta che non riesce, attenzione alla Sampdoria con Bonazzoli. Qui abbiamo perso un brutto pallone, 3 contro 2, si allarga il gioco di De Paoli con la conclusione, radente il terreno, si tuffa Cesni, il pallone è out. Primo vero errore di reparto difensivo questa sera dei nostri, che non hanno gestito bene questa uscita del pallone. De Paoli non è riuscito ad approfettarne, la mira della sua conclusione con il piede destro è sbagliata, siamo alla minuto 45 in questo istante. Le mette in gioco il pallone la Juve con Bonucci, non c'è recupero, arriva 1, arriva 2, il duplice fisco del signor Piccinini, manda momentaneamente le squadre negli spogliatoi, la Juventus conduce per 1-0 sulla Sampdoria, grazie al gol di Dejan Kulusevski al minuto numero 13. Attacchiamo da destra a sinistra verso il settore sud, partiti fino alla fine, forza Juventus in gol, la prima pallone lo tocca a Rabiot. Kulusevski, bene per Ramsey, detta il passaggio fra botta in posizione regolare, servito il numero 38 della Juve che entra in area di rigore della sinistra, poi cerca la conclusione centrale, Audero in due tempi. Quadrado, sterza bene poi con l'esterno, serve ottimamente Kulusevski, c'è libero Ronaldo dall'altra parte, attenzione Kulusevski, Kulusevski per Ramsey, eccolo Cristiano al limite dell'area, la sua posizione, il destro a girare di Cristiano, il pallone non scende ma si alza, perché c'è stata una deviazione, corner Juventus. Guagliarella, da aria la manovra della Sampdoria, il lacrosse di Berezischi, il tocco di Rabiot, che serve involontariamente Guagliarella, il tiro a lato di un paio di metri, ma attenzione ragazzi, Guadalado per la Juve, cambio di gioco di Juan per Desciglio, buono lo stop volante con il sinistro, se la mette sul destro può tirare Mattia! Pallone fuori sulla deviazione, calcio d'angolo Juve. Fischia l'arbitro, attenzione, parte Cristiano, la parata, pugni chiusi da parte di Audero, che allontana il pericolo. Attenzione, nella zona di Mecchenni che salta, sotto porta, poi porta vuoto a gol! Gol, 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 gol! Gol, sciacquatevi la bocca! La Juve in gol, con Leonardo Bonucci, al gol numero 27 della sua carriera bianconera. Rivediamo il tutto con il salto di Mecchenni insieme a Bonucci, la conclusione di Mecchenni ribattuta, e poi a porta spalancata, Bonucci non ha nessun problema a trasformare in gol. 2-0 Juventus. E tra poco, altra sostituzione. Attenzione ragazzi, attenzione! Batte Ramirez direttamente in porta! La deviazione a scavalcare il tuffo di Szczesny. Palla dall'altra, parte del campo e corner per la Samp. Battuto all'improvviso, cross di Augiello! Szczesny la salva sulla linea, attenzione! Grande riflesso di Wojciech. Palla altissima dentro l'area della Samp. Prova a staccare, ci riesce Ramsey per il tentativo di lasciato di Ronaldo. Arriva Mecchenni, palla deviata, salvataggio di Udero, ma la palla forse è dentro? Attenzione! No, dice l'arbitro. Tra le linee, il rabio anticipato, attenzione da Verre. 3 contro 3 della Sampdoria, velocissima verso la nostra area di rigore. Il pallone filtra per Quagliarella, sinistro! La palla fuori, non di tanto. Grande chance a favore della Sampdoria per accorciare Ramsey. Buono il servizio per Cristiano. Il destro! Gol! 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 E Westoa a chi anche quest'anno? Juventus 3, Sampdoria 0. Il gol di Cristiano Ronaldo. L'assist delizioso di Aaron Ramsey. Il destro secco sul palo più lontano di Cristiano Ronaldo. CR7 porta il punteggio sul 3 a 0 a favore della Juve contro la Sampdoria. A un minuto e mezzo dalla fine della partita. Arriva 1, arriva 2, arriva 3. Il triplice fischio del signor Piccinini manda definitivamente le squadre negli spogliatoi. La prima sinfonia del maestro è convincente a tratti spettacolare. Ottime fasi di gioco in attacco e in difesa. La Juve apre le marcature con il nuovo acquisto Dejan Kuluseski. Poi il raddoppio di Bonucci e la sigla classica finale di CR7. Cristiano Ronaldo che riesce anche a mettere a segno un gol nella prima partita che non gli era riuscito negli altri due campionati. Allora è tutto dallo stadio. Un prossimo appuntamento in trasferta contro la Roma. Grazie. 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 Grazie.